e a fuori non devi pulire scusami butta giù no che dopo pulisci scusami ma papà ma questo qua come cosa che cazzo sei babbo natale non ho capito e va bene dai tanto guarda dovranno partire là in cima in cima quindi non di discutere che sto registrando e quindi senti più grandi di così non ce n'era salve buongiorno